buongiorno buon inizio di settimana vostro caro frazzi bianco nero dunque diciamo il buon inizio di lunedì lunedì mattina prima pagine light andiamo a vedere cosa dicono i giornali di stamattina iniziamo con il tutto sport dunque vada vedi viene bici come si dice vada bene bici dunque da tutto sport poi l'assurdo vicende dopo ci ha tolto un po di sorriso sin risponde ponendo fino al regno di gioco vici davanti a federe e alcaraz andiamo un po andare sotto poi vada sconfitta shanghai da uno gli anni che stato sperico non le ripasse il testimone ricordi me soffichi gli avversari settimo titolo nel 2024 il numero uno ammette non è facile giocare con questo peso ma sono pronto a nuove sfide ora la rabbia la tp finals e la davis per battere altri record di punti e di premi national league stasera alle 20 45 contro l'israele nudine blindata dunque pienone allo stadium 2 1 la roma woman no limits festa per trentatré oriente in fiamma alza il livello d'allarme in città spalletti avrei preferito un clima migliore gli azzurri difendono il primo posto a centrocampo spazio per lo juventino con la possibile conferma del granata in regia dunque pienone allo stadium 2 1 la roma woman no limits festa per trentatré mila spettatori dunque questo ieri c'era anche iuva roma woman allo stadium intanto andiamo a vedere il corriere dello sport a shanghai signor donna diokovic in 27 l'extraterrestre è italiano dunque settimo trionfo a della stagione abbattuto una leggenda gli anni che strepitoso 76 63 in 97 minuti tutto speciale dunque mi ho preso il mio sorriso perché certi problemi restano in testa non le applaude soffoca i rivali come facevo io questo dice il tutto il corriere dello sport andiamo sulla gazzettona dello sport nuova era sin troppo forte gli amiche a shanghai schianti a giuacovic che l'ho in corona mi assomiglia nel 2024 del settimo trionfo ora le finals e i tennis italia vince per il mondiale obiettivo la prima fascia nel sosteggio si temono incidenti città blindato inter ricomincia data va sistemata la difesa ritorno di fiamma per david avram non convince il milan dunque si butta anche su david andiamo diciamo vediamo qualche giornalista un qualche tifoso dunque giorno nicoloschino scritto george away al festival della sport al milano mi sentito a casa ero tifoso della juve ma contribuenti segnavo sempre mio figlio timoti alla juventus certo che sono felici e sono convinto che abbia anche tanti margini e miglioramento per essere protagonista intanto la juve idea be a be a beto per la gennaio si apre l'artista dell'ex udinese vladic solo negli che fermo giuntrici a condizioni in prestito intanto il marsiglia non riscatterà valentine carbone di ricordato quei 35 milioni l'abbiamo venduto ecco torna indietro sono sfumati quei 35 milioni che doveva andare all'inter torna in giocattino il giocatore tornerà all'inter questa la novità intanto vladic solo milica e ferma si apre la pista dell'ex udinese come hanno detto in due idee a beto comunque come dice anche quella che è il tono dello sport ancora nicoloschino la juventus stanno motivando il talento della stella rossa andrei maxinovic maxinovic nato nel 2007 che ieri è diventato il giocatore più giovane ad aver mai presentato la serba in una partita ufficiale ha solo 17 anni 4 mesi e 7 giorni antonello angelino dunque il capitale dell'inter alza la coppa ah no è il caso ultrase gli è messo in mano questa era una foto che la potrà vedere sulla mio sito di facebook miglietti pressione e minacci così federico ferdico ha preso l'inter con barretta ha gestito la strada al potere il bellocco l'ultra ha ucciso di 4 al 4 settembre delle chieste per la finale di istanbul e l'incontro d'ossprimia poi c'è scritto nell'articolo basco si è iniziata che mister lo sei a milano devi tirare fuori la gara e beh ci sono tante cose ma bisogna vedere quello che vogliono fare i pm bisogna vedere cosa che sanzioni daranno ma non penso che ci saranno penalizzazioni ci saranno qualche inibizione ai dirigenti qualche qualche multa ma non 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 succederà nulla di che non ci saranno molti scossoni va bene ragazzone queste erano le prime pagine di stamattina ci sentiamo ci vediamo domani mattina per le prossime giornali light per le prossime prime pagine light una buona giornata a tutti a domani a domani